Il Signore sia lodato. Volete prendere Giovanni capitolo 3? Non so, vi dico la verità perché questo messaggio stamattina. Giovanni capitolo 3. Ieri sera avevo in mente tante persone che ci scrivono, tante persone che mi telefonano, fratelli. Glorie a Gesù, tante persone che probabilmente hanno bisogno di un tocco dalla mano di Dio, ma stamattina lo volevo cancellare dalla mia mente, anche se sono andato nella stanzetta, ma non sono riuscito, fratelli, a parlare di altro. Glorie a Dio. Vabbè, diciamo che il Signore sa ogni cosa e probabilmente sa che qualcuno ha bisogno di questa parola. In particolare sicuramente io ho bisogno. Giovanni 3. Vogliamo leggere soltanto i primi tredici versi. Il Signore sia lodato. C'era tra i farisei un uomo chiamato Nicodemo, uno dei capi dei giudei, e gli venne di notte a Gesù e gli disse «Rabbi, noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio, perché nessuno può fare questi miracoli che tu fai se Dio non è con lui». E Gesù gli rispose «In verità, in verità, ti dico che se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio». E Nicodemo gli disse «Come può un uomo nascere quando è già vecchio? Può egli entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e nascere?» E Gesù rispose «In verità, in verità, ti dico che se uno non è nato d'acqua e di spirito, non può entrare nel regno di Dio». Quello che è nato dalla carne è carne, quello che è nato dallo spirito è spirito. Non ti meravigliare se ti ho detto «Bisogna che nasciate di nuovo». Il vento soffia, gli dice, dove vuole, e tu ne odi il rumore, ma non sai né da dove viene né da dove va. «Così è di chiunque è nato dallo spirito». E Nicodemo replicò e gli disse «Come possono avvenire queste cose?» E Gesù gli rispose «Tu sei maestro di Israele e non sai queste cose?» «In verità, in verità, ti dico che noi parliamo di ciò che sappiamo, testimoniamo di ciò che abbiamo visto, ma voi non ricevete la nostra testimonianza. Se vi ho parlato delle cose terrene e non credete, come crederete se vi parlo delle cose celeste? Nessuno è salito in cielo, se non colui che è disceso dal cielo, il figlio dell'uomo che è nel cielo». Accomodatevi. Ogni volta che noi leggiamo la parola di Dio, ma quasi tutte le volte, fratelli, riusciamo a realizzare, a comprendere sempre delle cose nuove. E' bello quando noi sentiamo cose nuove, fratelli, quando noi realizziamo cose nuove, quando lo Spirito Santo ci fa vedere cose nuove. Non mi stanco mai di dire che la parola di Dio è un pozzo profondo, fratelli, un pozzo, fratelli, che non si esaurisce mai. Gloria a Dio. Ma noi molte volte prendiamo sempre quell'acqua superficiale, sempre quell'acqua, fratelli, perché non vogliamo bagnarci, non vogliamo immergerci, non vogliamo scendere nella profondità dell'acqua, fratelli. Gloria a Dio. E rimaniamo sempre con le cose iniziali, fratelli. Qui ci sono delle verità gloriose. Una l'abbiamo letto alla fine, e probabilmente non ci facciamo caso. Dice che nessuno è salito in cielo se non colui chi è disceso dal cielo, cioè Gesù. No. Infatti dici il figlio dell'uomo che è nel cielo. È. Non dice sarà. Io sono qui davanti a te, ma nello stesso tempo io sono nel cielo. Io sono nel cielo. Perché Gesù era vero uomo e vero Dio. Come uomo era in mezzo a noi, si è fatto uomo. La parola è diventata carne. Dice la scrittura nel capitolo 1, verso mi sembra 14 di Giovanni. E la parola è venuta ad abitare in mezzo a noi. Ma Gesù non ha mai smesso di essere Dio. Molte volte parlava come Dio, fratelli. I giudei non riuscivano a capire, e non riesce a capire neppure qui Nicodemo. Gloria a Dio. Tu sei maestro di Israele e non sai queste cose? Non riusciva a capirlo neanche Nicodemo, essendo un maestro, fratelli. Anzi, molte volte quando Gesù parlava come Dio, e c'era sempre qualcuno che puntava il dito, guai se lui diceva io sono il figlio di Dio. E già bestemmiava. Perché si faceva uguale al padre. Se dice io sono figlio di Dio, vuol dire io sono della stessa natura di Dio. O no? Oppure se lui diceva alziti, i tuoi peccati ti sono perdonati. Ah, tu bestemi, perché uno solo può rimettere i peccati. Dio. Lui era Dio. Era Dio. Ma non riuscivano a realzzarlo. E in questo, fratelli, intanto vediamo l'umiltà di questo uomo. Perché quest'uomo era umel, fratelli. E fra i farisei, fra i saducei, i fratelli, anche se molte volte Dio li unisce tutti insieme, scrive farisei, ipocrite, no? Ma ci sono state sempre quelle persone umili, sinceri. Dio ha avuto sempre un popolo, fratelli, anche nel Vecchio Testamento. Ha avuto sempre un popolo fedelo, un popolo timorato di Dio. Qui ce n'abbiamo uno, Nicodemo, fratelli, che mette da parte l'orgoglio, la superbia, la sua arroganza, di fare sé o fratelli, e va da Gesù, onestamente gli dice, Maestro, noi sappiamo che tu vieni dal cielo. Perché nessuno può fare quello che fai tu, i miracoli che fai tu, se Dio non è con te. Noi abbiamo saputo che Dio se ne è usato di Eliseo e che era un uomo di Dio. Noi sappiamo che Dio se ne è usato di Elia, era un uomo di Dio. Noi sappiamo che Elia ha fatto otto miracoli, ha risuscitato un bambino. Noi sappiamo che Eliseo ne ha fatto sedici, il doppio, ha ricevuto il doppio, ha risuscitato anche lui, un bambino. Ma perché Dio era con loro. Ora noi non vediamo più questi miracoli. e che vuol dire questo? Non lo dice la Bibbia, ma Dio non è con noi. Dio non è con noi. Ma adesso vediamo uno che fa i miracoli, e i miracoli che hai fatto tu e che stai facendo tu. Non l'ha fatto Elia, non l'ha fatto Eliseo, non l'ha fatta nessuno. Tu sei l'attempimento delle scritture. Gloria a Gesù in eterno. Signore, gloria a Dio, che bello, gloria a Dio. va, noi sappiamo che tu sei un dottore, sei venuto da Dio, un dottore venuto da Dio. Tu veramente sei il vero dottore. Sai, a me mi chiamano il dottore della legge, ma io davanti a te scompaio. io davanti a te prendo questo titolo e lo butto via. Tu sei un dottore venuto da Cielo, gloria a Dio, umili. Perché? Perché tutti sapevano che era venuto da Cielo, ma nessuno va a Gesù. Soltanto Nicodemo, gloria a Dio in eterno. Signore, dacci grazia. Forse Nicodemo sicuramente si aspettava qualche frase, come un giorno Gesù usò una bella frase con Natanael, vi ricordate? Quando Dio lo incontra, lo incontra, lui non è che aveva una grande fede, no? Filippo non riesce a convincerlo e gli dice guarda che fai, io non ho più parole, io non so come fare con te, vieni e bevi. E quando lui incontra Gesù, Gesù non lo fa parlare, e gli dice ecco un vero israelita in cui non vi è frode alcuno. E come fai tu a conoscermi? Lui ci conosce a tutti, fratelli. Lui sa quanto pesiamo, lui sa quanto valiamo, valiamo, fratelli. Lui conosce la nostra fede, lui conosce la nostra consacrazione, lui sa se le nostre sono parole, parole, o se è qualcosa che parte dal cuore. Dio lo sa, fratelli, e noi non possiamo ingannare, forse lui si aspettava, chissà, ma Gesù, fratelli, gloria a Dio, nessuno. E Gesù gli rispose in verità, in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno dei cieli, gloria a Dio in eterno. È un passo semplice da comprendere, fratelli, è un passo alla portata di tutti, fratelli. Gloria a Gesù in eterno, Signore dacci grazia. gloria a Dio. Sapete, se non si nasce di nuovo, dice qui la parola di Dio, se non c'è questo cambiamento, e abbiamo bisogno che il Signore ci dia grazia, perché molte volte nella nostra vita, fratelli, dentro di noi, dentro le nostre vene, c'è più orgoglio che sangue, e che Dio ci dia grazia, che Dio ci dia veramente sapienza. Noi abbiamo portato tempo fa un esempio, fratelli, un esempio, con il crempasso, fratelli, non si può entrare in nessun luogo, non si poteva entrare. ora, prima o poi, questo decreto viene tolto completamente, e possiamo entrare, salire sui pulmini, prendere sene, l'aeree, perché dipende dalla legge, dallo Stato, e lo Stato, fratelli, mette e toglie, mette e toglie, ma quando Dio dice una cosa, non la toglie più, perché la sua parola è spirito e vita, dura in eterno, e se Gesù ha detto, se tu non nasci di nuovo, duemila e venti anni fa, ancora oggi, è lo stesso, la parola non cambia, gloria a Dio in eterno, non c'è, Dio non vuole buone opere, Dio non vuole sacrifici, Dio non vuole fiorette, l'abbiamo detto sempre, e non ci sono religioni, che possono aiutare una persona, ma se una persona vuole vedere la gloria di Dio, ha una sola possibilità, ha una sola strada, nascere di nuovo, e noi capiamo cosa vuol dire nascere di nuovo, e qui Gesù, fratelli, non sta parlando a un peccatore, non sta parlando a un uomo di nulla, fratelli, no, gloria a Gesù, gloria a Dio, era uno dei capi dei giudei, era un farisee, dottore della legge, era un membro del Sinedrio, rispettato, amato, stimato, e avevano timore, anche un certo timore, di queste persone, gloria a Dio in eterno, faceva parte a un movimento religioso, dove erano attaccati alle tradizioni, attaccati fermamente, fratelli, a tal punto, che il diavolo l'aveva accegati, che riuscivano ad annullare la parola di Dio, per le loro tradizioni, era un uomo rispettato, fratelli, gloria a Gesù, era uno di quelli che veniva chiamato maestro, veniva chiamato padre, vi ricordate? Poi arriva Gesù, non chiamato a nessun padre, non chiamato a nessun maestro, perché uno solo è il vostro padre, e uno solo è il vostro maestro, benedetto sia l'Eterno, fratelli, perciò era un uomo rispettato, fratelli, era un esempio di onestà, se noi guardiamo il Nicodemo, fratelli, era una persona seria, e ce lo dice la parola di Dio, fratelli, infatti, guardate quant'era onesto, se noi leggiamo nel capitolo 7, al verso 47, perciò i farisei replicarono loro, perché sono arrivate le guardie, e dice, non l'abbiamo arrestato, nessuno parlò come lui, nessuno parlò come lui, perciò i farisei replicarono loro, siete state setotte anche voi, a qualcuno dei capi o dei farisei creduti in lui, non sapevano neppure quello che succedeva fra di loro, gloria a Dio, ma questo popolino, che non conosce la legge, è maledetto, Nicodemo, Nicodemo, uno di loro, quello che prima era andato da Gesù, prese la parola, e dice, ma la nostra legge, giudica forse un uomo, prima che sia stato udito, perciò loro parlavano, senza conoscere, erano i dottori della legge, ma non conoscevano la legge, e Nicodemo, gloria a Dio, e che sappia quello che ha fatto, ma che stiamo facendo, ci stiamo mettendo contro la legge, e se si risposero, sei anche tu di Galilea, esaminale, e vedrai, che dalla Galilea non so se mai profeta, mai profeta, e Gionati dov'era, Naum dov'era, e c'erano altri profeti, che venivano dalla Galilea, ma ormai il diavolo, aveva ciecato la mente, non riuscivano più, a vedere, fratelli, e noi vediamo questo Nicodemo, fratelli, insieme a un altro discepolo, temorato di Dio, ma in segreto, per non essere espulso, potevano fare più bene, di dentro che di fuori, dopo queste cose, dice, 19 di Giovanni, 38, dopo queste cose, Giuseppe da Rimadea, che era discepolo di Gesù, ma in segreto, per timore dei giudei, chiese appilato, di poter prendere il corpo di Gesù, e pelato glielo permise, e gli dunque venne, e presi il corpo di Gesù, Nicodemo, che in precedenza, era andato da Gesù, di notte, venne anche egli, portando una mistura di mira, e da lui, di circa, 100 libri, dove sono i dodici, o almeno gli undici, anche gli, dove sono, perché non lo fanno i dodici, che poi sono diventati, ma dopo, ma qui sono undici, perché, lo fa Giuseppe da Rimadea, lo fa Nicodemo, i discepoli erano conosciuti, da tutti, Nicodemo e Giuseppe da Rimadea no, cari fratelli, cari sorelli, ci sono fratelli, che sono conosciuti, stimati da tutti, ma ci sono fratelli e sorelli, che non sono conosciuti da tutti, ma sono stimate da Dio, Signore, dacci grazia, vogliamo l'approvazione degli uomini, o vogliamo quella di Dio, o noi vogliamo quella degli uomini, noi vogliamo che gli uomini, ci amano, ci apprezzano, ci stimano, ci vantano, Signore, dacci grazia, proprio a questo Nicodemo, fratelli, con tutte queste virtù, Gesù gli dice, se tu non nasci di nuovo, ma c'ha virtù, se tu non nasci di nuovo, non puoi entrare nel regno dei cieli, e a verso 5 Gesù gli rispose, perché dice, come puoi entrare una seconda volta nel grembo di sua madre, e Gesù gli dice, in verità, in verità ti dico, che se uno non è nato d'acqua e di spirito, d'acqua e di spirito, un intervento che lo fa l'acqua e lo spirito, un'azione che la fa l'acqua e lo spirito, e voi sapete meglio di me, quando dice l'acqua, o quando dice il pane, si riferisce a questa parola, un'azione che la fa la parola, l'acqua, ma se tu non metti della parola per conoscere Dio, per servire Dio meglio, l'acqua non può fare questa azione, lo spirito santo non può fare questa azione, e noi possiamo frequentare la Chiesa, anni, 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 senza una nuova nascita, senza un cambiamento radicale, perché ogni in qual volta che ci pestono i piedi, noi dimostriamo la nostra natura, la vecchia natura, il vecchio Saro, Signore dacci grazia, non è con parole, fratelli, che possiamo andare davanti alla presenza di Dio, quante volte abbiamo sentito nei funerali, era una brava persona, era una brava persona, ma è sufficiente essere una brava persona, per gli uomini, fratelli, e le persone, ma era una brava persona, e qual è il pensiero di Dio? Questo è il tuo, puoi essere il mio, una brava persona, ma il pensiero di Dio qual è? Noi molte volte preferiamo il pensiero degli uomini, che è il pensiero di Dio, fratelli, gloria a Dio, e Dio ci dice nella sua parola, guardate, che nella vostra vita non c'è nulla da aggiustare, non provate ad aggiustare, non provate a migliorare, non provate a riparare, a restaurare la vostra vita, non cercate con le vostre forze di migliorarvi, perché la vostra vita davanti a me è spazzatura, noi certe volte vogliamo migliorare, fratelli, eppure la parola di Dio ci dice, non c'è nessun giusto, neppure uno, tutti siamo venuti meno, tutti abbiamo sbagliato, tutti siamo peccatori, infatti, fratelli, non c'è distinzione, tutti, dice i romani, 3,23, hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma poi parla, ma sono giustificati graduamente, gradosi, siamo giusti, c'è un intervento di Dio che mette tutte le opere degli uomini, noi siamo portati a giustare, a rimediare, lui, fratelli, vuole fare tutto nuovo, nessuno mette un pezzo di stoffa nuova sopra un vestito vecchio, perché quella toppa porta via qualcosa del vecchio, e lo strappo si fa peggiore, neppure si mette vino nuovo in odri vecchi, altrimenti gli odri scoppiano, il vino si spande, gli odri si perdono, ma si mette vino nuovo, in odri nuovo, e tutti e due si conservano, e noi molto oltre vogliamo la benedizione, vogliamo la grazia, vogliamo la potenza, vogliamo la manifestazione di Dio, nell'odri vecchi, Signore, dacci grazia, c'è bisogno di una nuova nascita, c'è bisogno di un cambiamento, Nicodemo gli disse a verso 4, come può un uomo nascere, quando già è vecchio, può entrare una seconda volta nel grembo di sua madre, e nascere, Gesù gli disse, in verità, in verità, ti dico che se uno non è nato d'acqua e di spirito, non puoi entrare nel regno dei cieli, quello che è nato dalla canna è canna, quello che è nato dallo spirito è spirito, non ti meravigliare, se ti ho detto bisogna che è nascita di nuovo, il vento soffia dove vuole, e tu odi il rumore, ma non sai né da dove viene, né da dove va, tu non lo sai, tu non sai da dove parte il vento, tu non sai dove è destinato il vento, tu non lo vedi il vento, ma puoi vedere gli effetti del vento, allora vedi gli alberi che si muovono, ah, vento c'è, allora puoi vedere le carte che volano, oggi più che carte le borse di plastica, ma vogliono, e così è che è nato dallo spirito, il vento soffia dove vuole, e tu odi il rumore, ma non sai da dove viene, né dove va, così è chiunque è nato dallo spirito, e allora è un'opera che Dio fa nella mia e nella tua vita, senza che noi ce ne accorgiamo, però vediamo la mano di Dio, la gloria di Dio, vediamo che Dio è all'opera nella nostra vita, vediamo che la nostra vita viene cambiata, viene trasformata, vediamo che non abbiamo più i desideri della carne, vediamo che abbiamo un desiderio di servire e amare Dio, e desideriamo di essere sempre più rivestiti da Dio, e nasce questo desiderio, perché c'è la parola che opera dall'esterno, e c'è lo spirito che opera dall'interno, un vaso non può venire bene, se le mani del vasaio non lavorano di dentro e anche di fuori, o no? è venuto in mente adesso, la mano di Dio, le mani di Dio che operano all'interno e all'esterno, non posso fare io di voi, o casa di Israele, quello che il vasaio fa, quel vaso, e quella mano all'esterno è la parola di Dio, ma se tu non leggi la parola, non metti la parola, non studi la parola, se il tuo diletto non è nella tua parola, sta mancando questa mano all'esterno, ci siete? non basta solo la parola, c'è qualcosa all'interno, e all'interno è lo spirito santo, se lo spirito santo è in noi, è lo spirito santo che ci guida, è lo spirito santo che ci illumina, è lo spirito santo che ci fa conoscere tutta la verità, signore dacci grazia, il vento non lo vediamo, lo spirito non lo vediamo, però sentiamo la guida, sentiamo la consolazione, sentiamo che ci illumina, ci fa capire la verità, ci guida in tutta la verità, gloria a Dio in eterno, acqua e spirito, se leggiamo in Efesini nel capitolo 5, verso 25, mariti, amate le vostre mogli come Cristo ha amato la Chiesa, e ha dato se stesso per lei, per santificarla, dopo averla purificata, lavandolo con l'acqua della parola, la parola di Dio ci lava, quante volte noi abbiamo i panni sporchi, con chi li laviamo? Con l'acqua, l'acqua fa andare via la sporcizia, la parola fa andare via la sporcizia della nostra vita, per farla comparire davanti a sé, gloriosa, senza macchia, senza ruga, o altre simili difetti, ma santa e irreprensibile, in primo intito, nel capitolo 3, al verso 7, gloria a Dio in eterno, anzi, leggiamo dal verso 5, Egli ci ha salvati, non per opere giusti, per noi compiuti, da noi compiuti, ma per la sua misericordia, mediante il bagno della rigenerazione e del rinnovamento dello Spirito Santo, lo Spirito Santo ci rinnova, e che Egli ha spasso abbondantemente su di noi, per mezzo di Gesù Cristo, nostro Salvatore, affinché giustificati dalla sua grazia, diventassimo in speranza erede di vita eterna, il rinnovamento, dice qua, gloria a Dio in eterno, siete stati rinnovati, siete stati rigenerati, siete stati rigenerati, gloria a Dio in eterno, la parola rigenerazione, siamo stati rigenerati, da un essere precedente, a un essere nuovo, diverso, la persona è sempre quella, ma è stata rigenerata, ha preso un'altra forma, diversa, Cristo è stato rigenerato, aveva una natura divina, ha preso una natura umana, noi rigenerati, avevamo una natura carnale, terrena, peccaminosa, siamo stati rigenerati in una nuova creatura, gloria a Dio in eterno, lo dice Primo Corinto 4, verso 15, fratelli, se lo volete leggere, gloria a Gesù, verso 15, poiché anche se aveste diecimila precettori in Cristo, non avete però molti padri, perché sono io che vi ho generati in Cristo, sono io che vi ho evangelizzati, sono io che vi ho parlati, sono io che vi ho portati alla parola, sono io che vi ho parlati di Cristo, e Cristo è entrato nella vostra vita, gloria a Gesù, fratelli, Gesù disse alla Samaritana, se vi ricordate, prima gli ha detto se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti parla, tu stesso gli avresti chiesto dell'acqua ed adesso ti avrebbe dato l'acqua della vita, perché chiunque beve di quest'acqua avrà sempre sede, ma chi beve dell'acqua che io gli darò la parola di Dio non avrà giammai in eterno sede, l'acqua trasforma, cambia, va a chiamare tuo marito, una parola di Gesù, una parola, una frase, no, va a chiamare tuo marito, non l'hai evangelizzata, non ci ha parlato dei profeti, non ci ha parlato di... va a chiamare tuo marito, una sola frase, e questa non ha un marito, hai detto bene, ne hai avuti cinque, questo non è tuo marito, a queste parole, questa lascia la secchia, quella secchia che attingeva acqua che non l'avrebbe mai dissetata, perché adesso riceve l'acqua direttamente di Dio e non ha più bisogno del pozzo di Giacobbe e corre, corre, e dice agli abitanti venite, venite, c'è il Messia, vedi che in poche parole, c'è il Messia, gloria a Dio, Signore dacci grazia, gloria al tuo santo nome, eh? Solo accettando Gesù come Signore e Salvatore si riceve questa luce, fratelli, a meno qui leggiamo, la luce di comprendere le scritture, solo così possiamo vedere le nostre miserie, li possiamo confessare e solo così possiamo ricevere lo Spirito Santo, gloria a Dio in eterno, eh? E solo così possiamo nascere di nuovo, nascere di nuovo, d'acqua e di Spirito, gloria a Dio in eterno. l'Apostolo Paolo scrivendo ai Romani nel capitolo nel capitolo quindici al verso quattro diceva poiché tutto ciò che fu scritto nel passato fu scritto per nostra istruzione affinché mediante la pazienza e la consolazione che ci provengono dalle scritture conserviamo la speranza. amiamo la scrittura fratelli, leggiamo la scrittura, perdiamo tempo, non è perdere, spendiamo tempo durante la giornata, fermiamoci, sediamoci e leggiamo la parola proprio, volutamente, ci fermiamo volutamente. Signore, mi dai un pezzo di pane di quello che scende dal cielo, di quello che sazia, ma se tu non ti siete mai, non ti siete mai, gloria a Dio, dici, ma io vado in chiesa, ma io ascolto la parola, nella Bibbia non parla solo di andare in chiesa, nella Bibbia dice, fai che questo libro, fai che questo libro, fai che questo libro, gloria a Dio in eterno, gloria a Gesù, fratelli, concludo, avrei tante cose da dire, veramente, per entrare nel regno dei cieli bisogna nascere di nuovo, e nascere di nuovo, fratelli, Gesù un giorno porta un esempio, lo porta in diverse parti, ve lo leggo in Matteo 19, 13, gli furono presentati dei bambini perché imponesse loro le mani e pregasse, ma i discevoli li sgridavano, ma Gesù disse, lasciate i bambini, non impedite che vengono da me, perché il regno dei cieli è per chi assomiglia a loro, o si diventa bambini o si nasce di nuovo che è la stessa cosa, quando uno nasce di nuovo diventa un bambino, semplice, semplice, eh, i bambini non li decano mai e seppure li decano dopo un minuto fanno pace, gloria a Dio, molte volte i bambini si picchiano, lo fanno, ma dopo due minuti si abbracciano, eh, gloria a Gesù, per dire questa è la nostra natura, questa è la nostra natura, ma noi questa natura e concludo, la dobbiamo dominare, mi è arrivata la parola, dominare, come ci ha detto Dio ad Adamo, a, 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 dillo fotte, Caino, non mi ringrazio, non mi ringrazio, a Caino, eh, dipende da te, ti sta spiando, è pronto, ti vuole fare, fare la fine di tuo padre e di tua madre, ma tu lo puoi, ce la puoi fare, se tu vuoi ce la puoi fare, perché non vi ho creati così, vi ho creati alla mia immagine e somiglianza, se tu vuoi ce la puoi, ce la puoi fare, se tu vuoi, non ha voluto, fratelli, e a noi stamattina lo Spirito Santo ci dice la stessa cosa, se volete, potete nascere di nuovo, Amen, ci vogliamo alzare. ,